Grazie a tutti. 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 che sviluppiamo per approfondire la conoscenza natura poi immediatamente trovano applicazione nella vita di tutti i giorni, quindi la scienza di base ha un immediato risvolto sulla vita di tutti i giorni, sulla società e sull'economia della società. Ma andiamo all'antimateria, poi ne parleremo degli altri temi. Antiparticella, che cos'è un'antiparticella, l'antimateria? Ma è un compurculo elementare e ha alcune caratteristiche quantiche, i numeri quantici, alcuni numeri quantici sono di segno opposto, in particolare la carica dell'antiparticella è opposta alla carica della particella. Quindi oltre a stimolare l'immaginazione e fare pensare alla fantasticenza, devo cercare di parlare sempre verso di voi altrimenti il microfono si ammutolisce. La cosa importante da ricordare è che la particella è identica alla antiparticella, ma l'antiparticella ha carica opposta. Stessa massa, stessi numeri quantici, ma ha carica opposta. Non lo sappiamo, ma l'antimateria è costantemente creata e distrutta in ogni processo talmente energetico da permettere la creazione di particella e antiparticella partendo da una disponibilità energetica di qualche tipo. Quindi nelle stelle, nel Sole, costantemente l'antimateria viene prodotta e costantemente annichila. Il Sole è una vera fabbrica di antimaterie. L'antiparticella dell'elettrone, l'anti-elettrone che esiste, ed è un po' il personaggio principale del nostro discorso, è chiamato il positrone. Vedremo in quanti e in quali casi si studia e si applica e si usa il positrone. Infatti negli ospedali il positrone viene usato per la diagnosi medica. Quindi andiamo a vedere che cos'è l'antiparticella, che cos'è l'antimateria. Questa è materia, se partiamo da questa immagine, questa è materia certamente. Cosa sarà l'antimateria di questa materia? Questa è un'immagine speculare, resta materia. Quindi dobbiamo cercare di vedere qualcosa di più. Qualcosa di più ce la offre uno spunto interessante. Non si è arrivati all'idea dell'antimateria perché qualcuno la cercava. Anzi, quel qualcuno che la ha proposta, quando la ha proposta fu lui stesso sorpreso del suo risultato. Questo qualcuno era un matematico, un personaggio, una persona interessante. Paul Dirac, un inglese, il quale si trovava a operare sulla fisica teorica in anni in cui c'era una piccola rivoluzione nella fisica. Era stata proposta la fisica quantistica e c'era la fisica relativistica, la relatività e i quanti. Noi sappiamo che nella fisica atomica, la fisica atomica e nella fisica del nucleo, si applica questa teoria dei quanti. Le grandezze non vanno in quantità continue, in sviluppi continui, vanno a pacchetti, pacchetti di energia, aspetti discreti. Dirac lavorava sulle due teorie, le voleva unificare, scrisse dunque la prima teoria quantistica relativistica che descriveva l'elettrone e trovò che la sua equazione, la sua teoria, gli dava due soluzioni. E quindi tutti i grandi fisici del tempo saltarono sulla sede, dissero questo è matto, non può essere, l'equazione deve essere sbagliata, l'equazione di Dirac non funziona. Siamo nel 1928. Dirac dice, ma la mia equazione intanto è bella, esiste un'estetica della matematica e quindi probabilmente qualcosa di dusto ci deve essere. Questo è molto affascinante, esiste un'estetica della matematica e quindi salva la sua teoria dalle critiche nel momento più difficile dicendo questa equazione intanto esteticamente dal punto di vista matematico è bella. Poi lui stesso a un certo punto disse, sapete cosa? Secondo me potrebbe essere che una delle due soluzioni descrive la materia, l'altra delle due soluzioni mi descrive l'antimateria. E quindi è lui stesso a proporre questa interpretazione della sua teoria quando era solo una teoria, non c'era nessuna prova sperimentale. Nel frattempo da qualche parte Anderson, un fisico sperimentale, faceva esperimenti usando uno strumento di cui tra un istante parliamo, interessante, e vedremo come a un certo punto si accorge che esiste, può fotografiare, vede un elettrone che è positivo, un positrone. Poco dopo anche altri ricercatori fanno la stessa scoperta, tra cui Blackett e Occhialini. Vedrete che riporterò con passione i nomi dei ricercatori e dei fisici italiani che comunque disseminano la storia della fisica moderna. C'è una grande scuola nel nostro paese di cui abbiamo tutto il diritto di essere molto fieri. E quindi abbiamo la predizione teorica dell'esistenza di antimateria e la scoperta dell'anti-elettrone a 4-5 anni l'uno dall'altro. Heisenberg, un altro grande fisico, ha detto, e ve lo riporto perché credo che sia proprio vero, penso che questa scoperta di antimateria fu forse il più grande balzo tra i grandi balsi nella fisica del nostro secolo. Questo è Paul Dirac e questa è una fotografia presa in una camera bolle. Vedete queste tracce rappresentano uno sciame di particelle prodotte da una collisione irraginata da qualche parte e questa specie di pentola con dentro un liquido che mette in evidenza in qualche modo il passaggio di una particella essendo immerso in un campo magnetico piega le particelle positive da una parte quelle negative dall'altra. Quindi qua vediamo particelle positive e negative e quindi materia e antimateria. Approfondiamo un po'. Qui volevo solo sottolineare questo aspetto Dirac era un personaggio molto schivo piuttosto anche privo del tipico humor inglese era un personaggio un po' strano però aveva questa una cosa molto chiara e l'ha ripetuto tante volte anche ai suoi studenti lavorare sulla matematica essere attratti dalla bellezza matematica che naturalmente ha un aspetto legato alla semplicità matematica una questione la più semplice possibile molto probabilmente andando in quella direzione ci si avvicina anche più facilmente alla vera descrizione della natura reale quindi la sua equazione nei suoi due risultati può essere semplicemente o facilmente visualizzata da questa bellissima stampa di Escher e cioè l'antimateria si visualizza come una qualcosa di carica opposta in un mare che anche lui è di carica opposta quindi una particella si configura come una cosa che si concretizza in un certo ambito il campo e l'antiparticella si concretizza nell'antiambito una specie di anticampo e le due situazioni sono totalmente complementari intercambiabili salvo appunto questo aspetto del segno e qui dice stati ad energia negativa che appaiono come particelle con numero quantici inversi alla materia normale queste sono le due prime pubblicazioni nelle quali lui enuncia la sua teoria e sono due pubblicazioni nel 1928 le ho riportate qua perché nel 1928-2008 due anni fa sono poco più di 80 anni di storia della fisica moderna e questo fu un punto rivoluzionale nel momento in cui appunto l'antimateria è stata ipotizzata lui nella sua equazione descriveva con la fisica quantistica relativistica la teoria quantistica relativistica gli elettroni e quindi ha determinato le equazioni che governano la dinamica degli elettroni ed è arrivato a queste predizioni di fisica qui c'è Dirac e Heisenberg appunto nei tempi di queste due pubblicazioni anche è interessante questa cosa della relazione tra il fisico teorico e il fisico sperimentale il fisico teorico propone teorie tutti i fisici teorici propongono teorie e quindi prima che il fisico sperimentale arrivi a mettere un punto un punto sperimentale fatto di dati e di errore statistico e quindi limite sulla precisione prima tutte le possibili predizioni teoriche sono giuste questo è interessante è interessante anche per esempio nel nostro lavoro di adesso la pubblicazione che citava Antonella prima dell'esperimento al quale io ho preso parte nello spazio alla ricerca di antimateria nei raggi cosmici quel lavoro mette un punto sperimentale dirimendo diverse teorie e dando un contributo su certe ipotesi legate alla materia oscura attraverso la rivelazione di antimateria se ci arriviamo ne parleremo ma ecco l'altro personaggio interessante Anderson non stava assolutamente cercando antimateria non sapeva proprio delle teorie di Dirac e quindi a un certo punto vide questa strana traccia ne parlò e la gente gli disse bah guarda che ti sbagli questa cosa o viene dal di sotto e quindi c'ha la curva sbagliata o tu ti sei sbagliato riguarda i tuoi strumenti e qui vedete il suo strumento che appare come una cosa strana a me naturalmente dice alcune cose questi fili neri qua dietro sono gli avvolgimenti di un grosso magnete all'interno del grosso magnete ci sta il sistema di carica e scarica di una camera che contiene dei liquidi o dei gas questi liquidi o questi gas portati in una situazione metastabile quando vengono attraversati da una particella proprio questa metastabilità crea o una condensazione se è un gas o un'evaporazione se è un liquido e quindi la particella passa e lascia una serie di goccioline o bolline e noi con la macchina fotografica fotografiamo e vediamo la traccia della particella naturalmente il tutto si trova all'interno del campo magnetico e un certo segno si piega in una direzione un altro curva in una direzione opposta e sappiamo allora qual è il segno ma in più dipendentemente dalla massa della particella abbiamo maggiori o minori bollicine o goccioline e quindi sappiamo dire ma questo è un elettrone o questo è un protone la camera la camera bolle o la camera nebbia era stata inventata da Wilson si chiama anche camera di Wilson qui c'è una bellissima copia della camera usata proprio da Anderson e qui vedete il principio di funzionamento questi anellini rappresentano gli avvolgimenti del magnete e c'è un pistone per creare o una compressione o un'espansione per cui nel fluido si crea uno stato di metastabilità quando passa la particella ecco le bollicine l'ultimo atto è la macchina fotografica ed ecco l'immagine l'immagine critica adesso io non so se voi riuscite a cogliere l'aspetto più ecco forse questa immagine è migliore l'aspetto più interessante è che qui in mezzo Ender sommise una lastra di piombo per cui la particella attraversa la camera perde energia nella lastra di piombo e poi dopo aver perso energia ha una minore energia e quindi la curvatura è maggiore vedete qua il raggio di curvatura è molto più grande e qua il raggio di curvatura è più piccolo quindi si sa con precisione da dove viene la particella in questo caso viene dal basso se si sa con precisione da dove viene la particella non è ambiguo il segno quindi non è una particella di segno opposto che viene o da sopra o da sotto si elimina attraverso questa lastra di piombo l'ambiguità possibile sul segno quindi a un certo punto Ender sommi era certissimo che la sua particella fosse un elettrone e questo veniva dal numero di bollicine al centimetro che la particella causava un protone ne faceva di più e un elettrone di segno opposto all'elettrone normale e questo veniva dal raggio di curvatura poi aveva la certezza sperimentale che si trattasse di un antielettrone qui vi porto un'altra poi naturalmente questa teoria si è evoluta negli anni 50 60 70 anche 80 sono continuati esperimenti con enormi straordinariamente belle importanti camere a bolle che hanno dato misure importantissime e qua vi faccio vedere appunto alcuni dati la camera dei bellissimi disegni vedete qui la particella rallenta all'interno del fluido e a causa del campo magnetico disegna proprio dei veri ricci qua c'è una particella neutra che quindi non lascia tracce ma improvvisamente incontra un nucleo del fluido e crea una coppia di particelle probabilmente appunto elettrone e positiva positiva e negativa che vanno dunque in direzione opposta e disegnano questi riccioli naturalmente Anderson lavora con cosa da dove salta fuori questa particella su da qualche parte nelle immagini precedenti abbiamo scritto Anderson scopre il positrone nei raggi cosmici cosa sono i raggi cosmici i raggi cosmici erano stati ipotizzati ancora prima di questo volo in pallone in mongolfiera storico del fisico Hess Herman Victor Hess sorry Herman Hess scrittore nel 1912 per cercare di mettere in chiaro diverse ipotesi sul fatto che una bacchetta carica esposta al suolo nell'atmosfera poi si scaricava erano state fatte diverse osservazioni che sembravano suggerire che esistesse una specie di elettricità nell'aria qualcuno ipotizzava che questa radioattività elettricità venisse dal suolo ed in effetti poi nei minerali esiste un certo tipo di radioattività ma Hess prese degli elettroscopi quindi degli strumenti per misurare l'elettricità e incominciò col suo pallone a salire arrivò a 4-5 mila metri 5 mila metri mano a mano che saliva poteva mettere in chiaro che misurava più elettricità lontano dalla terra che vicino alla terra e quindi questa radiazione che generava ionizzazione quindi carica elettrica non veniva dalla terra veniva dallo spazio fuori quindi disse alla fine i risultati delle mie osservazioni si spiegano perfettamente supponendo che una radiazione di grandissimo potere penetrante entri dall'alto nella nostra atmosfera quando Millikan vide questi risultati li battezzò con la parola il nome raggi cosmici che è un nome ad effetto piuttosto di nuovo affascinante colpisce l'immaginazione e quindi questo nome è rimasto è una radiazione che viene dallo spazio extraterrestre della quale ancora sappiamo pochissimo non è in chiaro quali sono le sorgenti dei raggi cosmici di altissima energia sappiamo le sorgenti dei raggi cosmici di bassa energia sappiamo che il sole è una sorgente di raggi cosmici di bassa energia ma non sappiamo per esempio quali sono le sorgenti di raggi cosmici di altissima energia Per più di 30 anni gli studi sulla fisica delle particelle sono stati fatti solo con i raggi cosmici, poi c'è stato l'avvento degli acceleratori e vedremo, ne parliamo. Ma ancora oggi, mentre al CERN a Ginevra entra in funzione LHC, alle altissime energie di cui è capace, noi non siamo in grado di produrre sulla Terra con gli acceleratori di ultimissima generazione, i più potenti che abbiamo saputo costruire, non siamo ancora in grado di riprodurre le altissime energie con cui alcuni raggi cosmici arrivano sulla Terra. Quindi ancora alcuna fisica si deve basare esclusivamente sul raggio cosmico e sull'informazione che ci può portare. Quindi raggi cosmici ci mettono direttamente in contatto con lo spazio fuori, questo enorme universo sconfinato per il quale veramente per cercare di afferrarne le dimensioni la nostra mente deve fare uno sforzo particolare, un sforzo bello, ma uno sforzo particolare. Questa è un'immagine presa dall'osservatorio Hubble, orbitante, e lì vediamo tanti oggetti, tante galassie, questi oggetti che sembrano oggettini qua, giochi, stelline dello sfondo del presepio, sono smisurati astri composti da milioni di stelle come il nostro Sole. Quindi per noi lo studio dei raggi cosmici è una maniera per andare a cercare di capire e interpretare questo. Come? I raggi cosmici arrivano sulla Terra, sono queste particelle terribilmente energetiche, vengono dal Sole, dalle galassie, dalle supernove, e che fanno? Interagiscono con la nostra atmosfera, questo spessore da 40 km che si estende da qua fino a dove, questo spessore di gas importantissimo per la vita e per schermarci appunto dai raggi cosmici, contrarono l'atmosfera, li convertono e creano uno sciame, uno sciame di particelle. E quindi Hess, quando salì col suo pallone, che fece, ripercorse all'indietro queste sciame di particelle e probabilmente trovò il punto di massimo dello sciame, il massimo punto di densità di particelle per cm quadro. Lui comunque misurò che salendo vedeva crescere la radioattività. Quindi l'alta energia dei raggi cosmici viene ritrasformata in uno sciame di particelle di energia progressivamente più bassa e come avete visto forse nella mostra, qui siamo costantemente percorsi dal risultato di questa conversione. Questa è un'altra immagine che ci dà un'idea di quello che succede. Naturalmente anche gli esperimenti più moderni a terra vanno a misurare su grandi estensioni le particelle risultanti dalla conversione originale. Dalle caratteristiche di queste particelle, per esempio dal tempo di arrivo del primo e dell'ultima, si riesce perfino a fare del puntamento e vedere dove nel cielo è l'oggetto che ha originato il raggio cosmico. Se questo raggio cosmico ha un'energia sufficientemente alta a non lasciarsi curvare troppo dal campo magnetico della nostra galassia. Ecco dunque quello che succede. Ci sono i raggi cosmici primari, convertono nell'atmosfera, producono particelle secondarie, i fisici prendono dei palloni stratosferici e vanno a vedere cosa si trova molto in alto, anche aerei che volano a grande altezza, ma anche vanno a vedere cosa penetra sotto i monti perché ci sono alcuni raggi cosmici che hanno delle caratteristiche di grande penetrazione. E come vi dicevo, parecchie delle particelle che oggi fanno parte delle particelle che conosciamo, studiamo, abbiamo descritto, capiamo a cosa servono nella loro interazione nucleare e tutto il resto parecchie sono state scoperte proprio nei laboratori di alta montagna. Qui vediamo un laboratorio di alta montagna in costruzione. Ancora tanti laboratori di alta montagna sono attivi in giro per il mondo e ancora nel mondo esistono dei grandi esperimenti importanti, ve ne emozionerò uno, che lavora in alta montagna, dove naturalmente lo spessore di atmosfera filtrante e convertente è minore. Come si rivelano i raggi cosmici oggi, appunto? Con grandi estensioni di rivelatori a Terra e questi sono i raggi cosmici secondari. Con satelliti, qua c'è un disegno di un esperimento che ancora non è attivo, è solo progettato, con satelliti che fuori dall'atmosfera ci permettono di rivelare i raggi cosmici primari. Qui per esempio è un esperimento in America. Questo esperimento guarda non le particelle, ma la luce prodotta dalle particelle nei raggi cosmici. Vedete questo array di specchi. Questo è un altro esperimento, un esperimento in cui noi italiani non solo partecipiamo, ma siamo leader e proponenti in collaborazione tra l'NFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e parecchie università cinesi. Questo esperimento sta in Tibet, si chiama Argo. In Tibet a 4.300 metri di altezza, più o meno la stessa altezza fino a cui era arrivato Hess con il suo pallone. Si sono 18.500 rivelatori che coprono una grande area. Vediamo il posto vicino al villaggio di Jambaijing in cui si trova l'esperimento Argo nel Tibet. L'esperimento con la sua estensione di rivelatori sotto questo enorme cappannone, quando arriva il raggio cosmico che fa. Questo raggio arriva prima, quest'altro raggio arriva dopo. E quindi se ha una risoluzione temporale sufficiente, stiamo parlando del nanosecondo, miliardesimo di secondo, che per l'elettronica non è una cosa trascendentale. L'elettronica oggi, i nostri esperimenti, possono risolvere il picco secondo con facilità, quindi abbiamo tanto margine. Però appunto se uno riesce a capire chi arriva prima e chi arriva dopo, poi può fare anche del puntamento e ripercorrere la traccia. Questi sono i rivelatori sotto il cappannone. E questo è appunto uno sciame rivelato da Argo. Vedete, qui c'è il tempo e questa è la posizione. E qui c'è il raggio cosmico che arriva ultimo, qui c'è il raggio cosmico che arriva per primo. I fisici faranno la loro analisi e ci diranno tante cose che sono nel programma di fisica dell'esperimento. Questo è un altro esperimento che sta nell'isola di La Palma. Questo è un sistema di specchi che guarda il cielo e guardando il cielo guarda la luce prodotta dalle particelle associate a uno sciame atmosferico. Altra maniera per studiare i raggi cosmici di alta energia. C'è un altro grandissimo esperimento che si chiama Pierre Roger, dal nome di un fisico dei raggi cosmici. Questo esperimento si trova in Argentina. Anche questo esperimento copre una straordinaria area della Pampa, diverse centinaia di chilometri quadrati, con rivelatori disseminati un po' dappertutto. Lo scopo di questo esperimento è quello di rivelare gli sciami prodotti dalle particelle di vera altissima energia, proprio quelle particelle di cui vi facevo cenno prima, che sono di così alta energia, pur essendo cari, che non vengono deviate dal campo magnetico della nostra galassia, che è di alcuni microgauss, quindi campi piccolissimi. Ma se i campi piccolissimi agiscono per distanze grandissime, l'effetto è comunque molto importante. Quindi si spera, guardando i raggi cosmici di altissima energia, di vedere se ci sono delle sorgenti. Perché, come vi dicevo prima, uno dei punti è che noi non sappiamo qual è la struttura capace di accelerare raggi cosmici a queste mirabolanti energie. Questo è un altro grande esperimento che guarda i neutrini di origine solare. E per finire è importante dirvi oggi, qua, che c'è un esperimento che si chiama AMS, che sta per essere lanciato in orbita dallo shuttle e verrà collocato in questo punto della stazione spaziale. E AMS ha come scopo principale studiare l'antimateria nei raggi cosmici. Ve ne parlo tra un istante assieme a altre considerazioni che faccio sul mio esperimento. Quindi abbiamo una grande attività sui raggi cosmici. Non è stato, tutto non si è esaurito con la scoperta della prima particella di antimateria da parte di Henderson, ma i fisici sono ancora attivissimi in tantissime ricerche sui raggi cosmici. E naturalmente l'antimateria nei raggi cosmici è uno dei temi importanti. Perché sono importanti? Ve lo posso già accennare per rompere un po'. Perché quando abbiamo visto in una delle precedenti immagini nascere da una particella neutra due particelle, una positiva e una negativa. Quando abbiamo disponibile sufficiente energia sia con gli acceleratori di particelle, sia con i raggi cosmici, sia con qualunque fenomeno naturale, quando vediamo l'applicazione della famosa equazione di Einstein è uguale a mc quadro, l'equazione l'energia e la massa. Quindi abbiamo disponibile energia, creiamo massa, comunque creiamo sempre particella e antiparticella. Quindi possiamo ancora applicare il processo inverso, l'annichilazione delle due ci ridara massa. La domanda critica, il dove è finita l'antimateria, è che se il Big Bang ha seguito le leggi della fisica che noi conosciamo, allora al momento del Big Bang deve essere stata costruita tanta materia quanta antimateria. Ma noi siamo qui solo materia, e quindi dove è andata a finire l'altra antimateria che deve esserci stata al momento del Big Bang. Va bene. Certamente però qui sulla Terra la fisica delle particelle, il progresso oltre il positrone scoperto dall'Henderson era limitato dal fatto che naturalmente i raggi cosmici sono capricciosi, sono pochi, sono rari, sono complicati da vedere. È molto difficile ottenere un esperimento con un'alta statistica di particelle per studiare con precisione le caratteristiche delle particelle. Uno ne vede una, stabilisce dalle caratteristiche che vede che quella è magari il pione predetto da Yukawa, ma non riesce a studiarne nel dettaglio le caratteristiche perché manca la statistica. E proprio negli anni in cui questa necessità si manifestava sempre più chiaramente, Lorenz, un ricercatore americano, costruisce il primo acceleratore di particelle. Questo è il primo acceleratore di particelle praticamente tascabile con il quale però Lorenz riuscì ad accelerare le particelle a milioni di elettronvolt. Quindi una specie di piccolo, una piccola giostra elettromagnetica per elettrone nella quale ad ogni giro l'elettrone veniva accelerato sempre di più. Nasce l'epoca, l'era degli acceleratori e siamo verso la fine degli anni 50 del secolo scorso. Qui vi riporto un Topolino nel quale lo sceneggiatore Alessandro Benjivenni parla degli acceleratori e di una visita che Topolino e Pippo decidono di fare al CERN. Questo per dirvi che in fondo si può avere un approccio insomma un po' non sono argomenti lontani dalla vita di tutti i giorni se uno si riesce a far incuriosire poi è facile andare avanti insomma questa fisica si può leggere anche senza addentrarsi nelle equazioni difficili e questo scenografo ha fatto un intero Topolino su questa visita al CERN di Pippo e Topolino. Gli acceleratori sono come microscopi microscopi elettronici maggiore è l'energia e maggiore è il potere di risoluzione quindi la lunghezza d'onda della luce che analizza il nostro oggetto da analizzare diventa sempre più piccolo e quindi ci permette di vedere oggetti sempre più piccoli. Oggi ci sono dei grandi acceleratori sia lineari che circolari ma tutto nasce da questo sviluppo che per un certo periodo proprio rivoluzionario promosso da Lorenz negli anni 60. Vedete questo è il ferro di un grande magnete di un acceleratore in quel momento ogni pochi anni si produceva un acceleratore sempre più grande che accelerava sempre ad una maggiore energia questo è un acceleratore lineare nel quale recentemente sono stati messi a punto dei risultati importanti anche nel contesto dell'antimateria e anche nel contesto del mistero del dove è andata a finire l'antimateria l'esperimento ha messo in chiaro che ci sono particelle per le quali materia e antimateria si comportano in un modo un poco diverso violano una simmetria che si chiama cipi carica e parità questa violazione si pensava avrebbe potuto spiegare l'anomalia che oggi vediamo cioè noi siamo fatti di materia non incontriamo antimateria e non corriamo nessun rischio di annichilire in realtà la violazione che è stata misurata e messa in chiaro non è sufficiente a descrivere l'assimmetria delle particelle che oggi verifichiamo noi siamo fatti di materia questo è un altro acceleratore che sta a Fermilab vicino a Chicago altro acceleratore importantissimo era il più potente fino all'avvento di LHC ed ecco Pippo e Topolino che prendono l'aereo questo è un fumetto comunque degli anni 80 e vanno al CERN questo è Ginevra lo vediamo tra un istante vediamo Ginevra ma qui il grande scienziato con la barba sta già spiegando che stanno per inaugurare un acceleratore molto molto grande il nuovo acceleratore dice avrà una cicloferenza di ben 30 km quello era l'acceleratore che chiamavamo LEP Lepton Positron Collider un collisionatore di elettroni e positroni da una parte nell'anello venivano accelerati i elettroni dall'altra nell'anello i positroni essendo tutto complementare era possibile accelerare pacchetti di particelle gli uni contro gli altri e mandarli a collidere questo è stato l'acceleratore che ha permesso di ottenere dei risultati molto importanti però questo acceleratore non esiste più è stato sostituito con LHC e in LHC abbiamo protoni e protoni che collinano gli uni contro gli altri quindi non sono più elettroni sono particelle più pesanti i magneti sono stati sostituiti appunto con dei magneti superconduttori ed ecco LHC quindi vedete da Henderson a oggi una cinquantina di anni è stata una vera rivoluzione gli acceleratori sono diventati sempre più grandi perché tenere particelle ad energie sempre più alta in una traiettoria circolare chiede sempre una maggiore energia oppure un diametro maggiore questa è un'immagine di LHC il lago è quello che vedeva Topolino dal suo aereo questo è Montebianco e qui vedete questo enorme tunnel sotterraneo che contiene il nostro acceleratore è un acceleratore molto particolare come vi dicevo molto difficile avrete tutti sentito dell'incidente l'anno scorso ma avete sentito anche che quest'anno tutto è stato riparato e felicemente l'acceleratore è ripartito e ci ha dato i primi risultati molto interessanti ma quindi tra il 1953 in cui vide la luce un acceleratore che è significativo per il nostro discorso di oggi e oggi vedete le tecniche sono diverse le strutture sono diverse superconduttori magneti con delle enormi quantità di ferro e traferro ma nel 1953 fu messo a punto il Bevatron e il Bevatron raggiungeva un'energia sufficiente a produrre protoni e antiprotoni quindi si poteva chiarire la domanda fino in quel momento arbitraria una volta trovato il positrone l'antielettrone ci sarà anche l'antiprotone il mondo delle particelle è veramente complementare per ogni particella ovviamente oggi è banale dire sì allora no e chi costruì l'apparato per andare a verificare questa è un'immagine del Bevatron è Emilio Segre con il suo gruppo di collaboratori io ne ho conosciuto almeno uno che era Ipsilantis e dietro di loro vedete la strumentazione che gli permetteva di identificare la particella e di stabilire che pur essendo una particella che aveva la massa di un protone ne aveva la carica opposta questo è il risultato raggiunto nel 1953 nel 1955 il gruppo rappresentato da Emilio Segre riceve il 59 riceve il premio Nobel questa è un'immagine che io trovo molto interessante perché anche vi da anche un'idea della competizione i ricercatori erano in grande competizione quindi il gruppo italiano guidato da Edoardo Amaldi e il gruppo di Emilio Segre erano tutti a cercare questi raggi cosmici Amaldi li cercava questi antiprotoni scusatemi Amaldi li cercava nei raggi cosmici come Anderson aveva trovato i positroni ma naturalmente nei raggi cosmici è difficile trovare un antiprotone ci vuole un raggio cosmico molto energetico per avere l'energia sufficiente a produrre una coppia di protone e antiprotone e quindi questa che è una foto nella quale è un'emulsione fotografica nella quale effettivamente è stata vista una annichilazione di antiprotoni quindi un protone incontra un antiprotone i due si trasformano in annichilano e danno luogo alla produzione di una quantità di particelle secondarie una stella di annichilazione si dice la somma delle energie rilasciate ci deve dare la somma della massa delle particelle che annichilano più l'energia che avevano loro questo invece è un'immagine di un'altra emulsione fotografica presa dal gruppo di Emilio Segre competizione in qualche modo però l'acceleratore permise di accumulare una certa statistica di particelle alcune migliaia e la comunità internazionale riconobbe in quel risultato un risultato certo ed ecco che naturalmente l'accento si sposta sulla strumentazione abbiamo strumenti straordinari racconta il professore gli strumenti hanno determinato la qualità degli esperimenti quindi l'altro aspetto della ricerca è basata da un lato c'è l'acceleratore dall'altro c'è la raffinatezza degli strumenti strumenti che richiedono a volte un decennio per essere o anche un ventennio per essere messi a punto lo strumento camera bolle comunque ha permesso di mettere in evidenza l'esistenza dell'anti neutrone che per il quale qualcuno potrebbe dire ma come antineutrone non avevi parlato di carica qui vedete a un certo punto c'è uno scambio carica e arriva nella camera bolle un protone ha un incontro con un nucleo scambia la carica il protone perde la carica nasce un neutrone che incontrando un altro neutrone annichila e dà luogo a una stella di annichilazione e questo tragitto che qui è riportato traslato è il tragitto che percorre l'antineutrone quindi anche l'antineutrone è stato mezzo in evidenza evidente l'antineutrone come fa a esserci visto che abbiamo detto che le antiparticelle hanno la carica opposta ma il protone come il neutrone è fatto di quark se il protone è fatto di quark prendiamo gli anti o il neutrone è fatto di quark prendiamo gli anti-quark che compongono il neutrone e avremmo fatto un anti-neutrone qui abbiamo un'altra stella di annichilazione di un antiprotone vedete l'antiprotone arriva annichila e produce una serie di particelle secondarie un'immagine più che altro bella per uno sperimentale un'immagine bella o un risultato bello alla stessa portata della matematica bella di Iraq comunque vedete qui abbiamo in questi anni che vanno dal 32 la scoperta del positrone o da oggi una quantità di particelle che ci hanno permesso di descrivere con un modello piuttosto raffinato ormai la natura che sappiamo capire oggi con LHC stiamo cercando particelle come il bosone di Higgs e le particelle supersimmetriche e speriamo che LHC ci dia la situazione per previsioni che sono state fatte dai fisici teorici oramai più di 40 anni fa quindi in parallelo alla scoperta dell'antimateria agli sviluppi degli acceleratori e dei rivelatori che ci hanno permesso di andare avanti nella comprensione abbiamo messo in chiaro che esistono dei componenti fondamentali questi componenti fondamentali quark ed elettroni si legano tra di loro a formare i diversi nuclei nucleoni nuclei nuclei e elettroni formano atomi tutto questo queste particelle formamentali che ci danno luogo che danno luogo a tutto quello che noi sappiamo conoscere e vedere sono per quanto riguarda il mondo della particella i quark down up e gli elettroni per quello che riguarda l'antimateria sono gli anti quark adesso abbiamo le forze le particelle e il modello ormai ci ha descritto riesce a descriverci cosa sono i quark questi sono quelli che esistono in natura 1, 2, 3, 4 queste altre particelle le sappiamo scoprire nei raggi cosmici oppure produrre e rivelare con gli acceleratori quindi esiste un mondo fatto di quark e di leptoni e un antimondo fatto di anti quark e anti leptoni la teoria le prevede entrambi gli sperimenti li vedono entrambi naturalmente nulla impedirebbe che da qualche parte nel cosmo esistessero antigalassie bene lasciamo stare per questa volta a Topolino e ogni particella ha la relativa antiparticella quando l'energia diventa materia vengono prodotte in ugual numero particelle ed antipanticelle lo vediamo nelle solite fotografie che affascinano me e spero un pochino anche voi ma quando l'energia diventa materia vengono prodotte in ugual numero particelle ed antiparticelle quindi non riusciamo a capire come mai l'universo nostro non contenga alcuna traccia di antimateria dove è l'antimateria costantemente si fanno esperimenti al CERN è in corso un esperimento per vedere se antimateria si comporta seguendo la legge di gravità e cioè casca un antiprotone come casca un protone se attratto da un corpo gravitazionale di antimateria tutti parlano ormai esiste un complesso rock che si chiama antimatter ma per farsi pubblicità si chiama antimatter una brevanda la si manda per renderla magicamente potente in alto nello spazio per poi rivenderla insomma questa antimateria come la potremmo produrre la possiamo produrre appunto immaginando che quando produciamo materia e antimateria dall'energia abbiamo due strutture complementari come quando stampassimo una moneta la moneta rappresenterebbe la materia il complementare che lasciamo dalla stampa rappresenta l'antimateria l'antimateria naturalmente è una cosa particolarmente attraente perché l'idea dell'annichilazione permette di immaginare che l'annichilazione è la maniera più efficiente di produrre energia riuscissimo veramente ad avere una bottiglia di antimateria riusciremo a produrre quantità inusitate di energia con un chilo di zucchero se fosse antimateria potremmo sfruttare quantità enormi di energia come appunto l'energia che si produce nel sole in questi eventi solari che vedete riprodotto qua c'è un'enorme produzione di antimateria anche naturalmente la fantascienza si è appigliata all'idea di antimateria qualcuno di voi ricorderà Star Trek il film nel quale lo scienziato esposto all'antimateria si trasforma in un anti-uomo in realtà come cercavo di dirvi all'inizio l'antimateria noi la usiamo esistono delle sorgenti radioattive quindi dei nuclei particolari che sono instabili a causa di un eccesso di neutroni che hanno questi nuclei instabili emettono un positrone per raggiungere la stabilità quindi l'antimateria esiste veramente i positroni esistono in sorgenti radioattive che vengono prodotti da risorgenti radioattive noi abbiamo imparato a usare queste sorgenti radioattive a drogare qualche medicinale con la sorgente radioattiva a iniettare questo medicinale ricco di zucchero nel paziente che si vuole analizzare e questo zucchero viene assorbito in modo molto importante soprattutto dai tessuti malati che normalmente sono molto voraci di nutrimento e quindi questa specie di cavallo di troia accumula materiale radioattivo che emette antimateria positroni e quindi quando il positrone viene emesso lui annichila immediatamente con uno degli elettroni che sta in giro e nell'annichilare emette due fotoni che corrispondono in energia esattamente all'energia della massa degli elettroni 511 keV diciamo noi nel gergo delle nostre unità di misura ma però se questo è il cervello in cui si è accumulata l'antimateria noi riusciamo con i nostri strumenti dei cristalli rivelatori a rivelare questi raggi gamma e a ricostruire molto precisamente l'immagine all'interno del paziente un'immagine che non è possibile con nessun altro metodo così funziona dunque il nucleo radioattivo viene messo nel medicamento iniettato nel paziente e finalmente quando la radioattività si esercita e il positrone incontra l'elettrone e i due annichilano mettendo due gamma che sono sulla stessa linea per via della cinematica ecco che i rivelatori rivelano i due fotoni tanti di questi eventi naturalmente non solo due ma migliaia o milioni di questi eventi ci permettono una ricostruzione di immagini molto precise e usare questo strumento come strumento di diagnosi quindi l'antimateria è una cosa utile e non è assolutamente lontana da noi o fuori dal mondo se anche nell'astronomani esiste una pet questa si chiama positron emission tomography la pet esiste una pet della nostra galassia e si è visto che al centro della nostra galassia si vede si osserva la radiazione che risulta dall'annichilazione di anti-elettroni di positroni quindi là nel centro della galassia c'è qualche fenomeno cosmico sufficientemente energetico produrre da energia materia positroni ed elettroni i risultati sono ancora più precisi guardate per il dettaglio non mi ci soffermo ma sono interessanti l'immagine dei positroni descrive abbastanza precisamente l'insieme di stelle che si è visto la densità dell'insieme di stelle che si è visto al centro della nostra galassia quindi anche da questo si trae informazione naturalmente c'è ancora il tema legato alla pericolosità l'antimateria come arma l'antimateria come sorgente di energia molti di voi ricordano che in questa trama angeli e demoni o il codice da vinci un po' di antimateria viene rubata e portata in una bottiglia di che cosa stiamo parlando è possibile non è possibile che cos'è sta roba in realtà in realtà naturalmente non è possibile perché se annichila annichila quindi noi riusciremo a immaginare e l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo di mettere un antiprotone con un positrone quindi il nucleo è un anti e l'elettrone è un anti quindi abbiamo un antiatomo è stato costruito però è una struttura terribilmente anche se neutra quindi in teoria la potrei contenere in una bottiglia appena l'anti incontra la materia annichila dà energia e si distrugge quindi impossibile da trasportare quindi sì esiste lo speculare in carica della materia questa è materia e questa è antimateria ma questa non è facilmente trasportabile i due annichilano e producono energia al CERN esiste un acceleratore un esperimento per produrre antiidrogeno è un anello di alcuni metri di diametro i positroni vengono mandati a incontrare degli antiprotoni ma intrappolare l'antimateria richiede delle trappole di antimateria che devono essere magnetiche quindi dei grossi magneti criogeniche a bassa temperatura e immagazzinano in piccolissime quantità di antimateria che servono solo per studi scientifici quindi non ci sarà la bottiglia che ci permette di andare a far saltare per aria il Vaticano questa è un'immagine solo così ve la riporto così ma si funziona a meno 260 gradi in un possentissimo campo magnetico e questo è com'è l'interno di questa trappola per antimateria ciò non di meno se si pensa a volare con sufficiente energia lontano nello spazio e si pensa la gente deve cercare di immaginare come si potrà intrappolare contenere e usare antimateria nei motori spaziali il motore ad antimateria quindi questi sono progetti veri la gente ci pensa anche se la realizzabilità è molto lontana ora la cosa che mi tocca dirvi è che comunque appunto dove è andata a finire l'antimateria è una domanda alla quale io non so ancora rispondervi noi stiamo ancora lavorando e ancora stiamo cercando di capire dove è andata a finire l'antimateria quindi dal Big Bang nella quale nell'evento originale del tutto perlomeno noi abbiamo teorie che non riusciamo a contraddire che riescono a descrivere questa evoluzione da un tempo zero fino ad oggi dove l'universo si è sviluppato per quello che noi sappiamo capire in tutto questo noi non sappiamo dove è andata a finire la componente di antimateria ed ecco agli esperimenti cui ho partecipato io da quando sono in Italia qui vedete dei palloni stratosferici questo è l'esperimento 3000 kg di materiale in quel tempo prima dei satelliti si mandava il materiale al limite della nostra atmosfera e lì si cercava antimateria questo contiene un potente magnete tutta la strumentazione per vedere il segno delle particelle questi palloni che sono sgonfio questo è tutto sgonfio a terra ma una volta in orbita a 40 km di altezza diventano delle enormi sfere di 2-3 milioni di metri cubi di gas che tengono a galleggiare il nostro esperimento questo ci ha dato dei risultati interessanti ma risultati interessanti che ci hanno incaraggiato a cercare ancora maggiore precisione portando nello spazio con questo razzo la Soyuz che è partito da Baikonur questo è il satellite che è in orbita da 4 anni in orbita tuttora 3 anni e mezzo e questo satellite ci ha permesso di misurare l'esistenza di positroni molto energetici vicino alla Terra il satellite a 300 km di altezza questi positroni non sono previsti dalla teoria e quindi hanno suscitato una grande serie di domande proprio attribuendo questo segnale possibilmente a un segnale di conversione di materia oscura in antimateria grande collaborazione internazionale questo è l'esperimento ma saltiamo quindi le sorprese sono sempre in agguato per questo vi dico che gli sperimentali cercano non solo il segnale atteso ma cercano tutti i segnali Henderson diceva sapevo della teoria di Dirac ma non conoscevo i dettagli del lavoro ero troppo impegnato a far funzionare lo strumento per avere il tempo di leggere gli articoli di Henderson adesso tre parole sulle applicazioni la ricerca scientifica la scienza di base come vi dicevo sviluppa nuove tecnologie queste nuove tecnologie danno luogo ad applicazioni ad applicazioni che corrono verso il mercato quindi al di là della conoscenza al di là del cercare di risolvere il problema della dov'è finita l'antimateria tutti gli sforzi che facciamo poi trovano applicazioni varie ne porto qui due o tre ma potremmo discutere a lungo di tutte queste applicazioni questo rivelatore qui per esempio è un rivelatore che permette di fare radiografie ad altissima efficienza e quindi i raggi X vengono tutti visti dal rivelatore e non solo una frazione e questo permetterà sta già permettendo in alcuni casi di ridurre la dose di radiazione che il paziente deve subire questi sono i rivelatori gli stessi rivelatori che noi abbiamo sviluppato e messo in opera per i nostri esperimenti questo è un acceleratore gli stessi acceleratori dei quali parlavamo prima oggi con particelle protoni in particolare accelerati e guidati con enorme precisione sulle zone malate si riescono a ridurre e eventualmente anche a fare sparire per esempio i tumori in Italia abbiamo uno strumento pilota di questo tipo a Catania in cui già 200 pazienti sono stati trattati con un altissimo grado di successo ben superiore al 90% quindi acceleratori particelle fisica di base applicazione vita di tutti i giorni toccati anche noi ognuno di noi questo è un altro processo molto interessante che si fa coi neutroni ve lo risparmio perché siamo stanchi e vorrei non portare via il tempo alla discussione oltre a quello che ho già portato via ma anche nel contesto dei beni culturali si usano fasci di particelle per fare delle analisi precisissime e non distruttive sui beni culturali questo è un esempio per esempio di un'analisi di un inchiostro di Galileo che ha permesso di fare degli studi epistemologici molto precisi l'ultimissima sull'antimateria se volete sapere di che cosa si parla oggi sull'antimateria è stato visto da un grande satellite che studia lampi di luce energetica che vengono da lontanissimo nel cosmo che vengono da corpi che hanno degli eventi molto catastrofici questo stesso satellite invece ha visto che vicino alla terra in concomitanza con i temporali con fulmini molto energetici si creano positroni quindi interessante che appunto ce lo si poteva immaginare si poteva ipotizzare ma non era mai stato visto che nelle enormi energie che scatena un fulmine sono disponibili sufficienti livelli di energia per produrre una coppia delle coppie tante coppie positroni materie antimaterie detto questo vi ringrazio non vi dimenticate della rivista simmetrie che vi abbiamo distribuito e nella quale trovate tante informazioni grazie ci sono domande? grazie volevo chiedere forse l'ha accennato alla fine ma per chiarezza se poi ripeto per cortesia comunque complimenti per una bella esposizione stiamo parlando di protone cioè di materia ed antimateria l'annelli l'annellimento avviene col proprio simile oppure anche con un'altra materia di un'altra sostanza avviene col proprio simile il complementare in energia l'altra domanda poi basta Feynman gli effetti dell'antimateria li ha rilevate matematicamente ponendo il tempo all'indietro questa teoria matematica è stata Dirac l'applico ma Feynman nei successi sviluppi applicò il tempo negativo chiamandolo elettrone progettivo la 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 specularità anche dal punto di vista temporale il tempo per tanti processi è provata anche sperimentalmente come Feynman aveva ipotizzato certamente ok grazie buonasera professore volevo chiederle mi pare di capire che uno dei principali interrogativi che assilla gli scienziati è questa cosiddetta violazione della simmetria cioè come mai a fronte del fatto che per ogni particella dovrebbe esistere la corrispondente antiparticella alla fine c'è così tanta materia nell'universo e così poca antimateria cioè perché la materia alla fine ha vinto ha prevalso e poi se è ipotizzabile secondo lei una relazione tra antimateria e materia oscura e energia oscura grazie beh intanto sì la risposta è sì quello che continua ad assillarci è dove andiamo in andata a finire questa antimateria per esempio se l'antimateria si è prodotta in qualche fase del successiva al big bang è mai possibile che non ci sia un fossile di quell'istante che sia veramente tutta andata distrutta per cui anche il nostro esperimento perfino con i voli di pallone di cui ho fatto vedere un'immagine l'ipotesi era il nostro strumento farà tanti studi dovessimo vedere un antinucleo adesso abbiamo parlato di antiprotone antielettrone produrre un antinucleo è un processo che richiede un'energia tale per cui qui sulla terra noi siamo riusciti ad arrivare solo a produrre l'antideutereo quindi un neutron un protone dovessimo vedere nello spazio con i nostri strumenti con questo AMS che sta per partire partire a quest'anno un antielio per esempio un anticarbonio non potrebbe che essere un fossile del Big Bang e sarebbe una evidenza e dimostrazione intanto della teoria quindi ecco perché si va ancora a cercare Feynman stesso che lei cita diceva deve essere un puro caso che il nostro mondo sia fatto di materie e non di antimaterie nulla può escludere che da qualche parte ci sia una galassia di antimaterie un'antigalassia dovessimo trovare un'antimateria nucleare vicino alla Terra dovremmo immaginare che c'è una sorgente di antimateria vicina ma la sorgente dovrebbe essere o un fenomeno cosmico di energia tale da essere in grado di produrre queste particelle o questa è la sua seconda domanda era naturalmente ci sono delle evidenze scientifiche e io le ho cancellate se no qui parlavo ancora ma le avevo figurarsi un po' per me piacere che rendono ineluttabile l'idea della materia oscura se si guardano le galassie lontane e si misura la velocità degli astri mentre ci si allontana dal centro della galassia le cose non tornano gli astri continuano ad andare velocissimi anche gli astri più lontani dal centro delle galassie lontane stanno andando a una velocità che non cala ma se l'astro si allontana dal centro della galassia quindi dal centro di alterazione gravitazionale lui non ha motivo di stare lì aggregato perché per forza centrifuga se ne andrebbe quindi si deve ipotizzare è l'unica cosa che sappiamo fare l'esistenza di una materia che non vediamo che non fa luce che non reagisce secondo le cose che noi sappiamo vedere e che però agisce gravitazionalmente è diffusa e partecipa all'attrazione di questo astro e lo tiene lì la galassia gira la luna se noi la spostassimo in un'orbita dieci volte più lontana dalla terra nessuno la costringerebbe ad orbitare attorno alla terra se ne andrebbe perché la forza gravitazionale non sarebbe più sufficiente a tenerla lì invece nel caso degli astri attorno alle galassie lontane questi stanno lì quindi questa materia l'unica cosa che ci viene in mente deve essere un tipo di materia che deve essere gravitazionale ma un po' speciale perché è citata farebbe luce non fa mai luce quindi che non riusciamo a vedere la chiamiamo materia oscura c'è ci sono questa è una delle evidenze sperimentali ma ce ne sono altre allora noi il nostro satellite in orbita misura un eccesso di positroni tanti di più dieci volte di più di quelli che la teoria ammetterebbe la teoria fenomenologica però ammetterebbe allora la domanda è da dove vengono questi positroni energetici vicino alla terra o c'è una sorgente un mini buco nero un qualcosa ma non sembrerebbe perché l'energia è più alta di quella che questo fenomeno mutuerebbe e una delle ipotesi che naturalmente è ancora lontana dall'essere provata è che questi positroni energetici vicino alla terra siano prodotti da un'annichilazione di particelle di materia oscura quelle particelle per i quali c'è una serie di predizioni teoriche e alcune di queste predizioni teoriche permetterebbero il risultato che noi stiamo vedendo non so se sono stato abbastanza chiaro grazie un'ultima domanda una domanda sciocca da chi forse non è capito nulla se all'inizio se all'origine è stata prodotta tanta materia quanto antimateria non dovrebbe esistere nulla per via dell'annichilimento a meno che non si faccia l'ipotesi di una spazialità tale una distanza spazialità tale tra materia e antimateria per cui non si incontrano annichilimento non c'è e qualcosa esiste solo per questo motivo grazie la domanda infatti non è sciocca non ci sono domande sciocche effettivamente è così se tutto fosse stato creato materia e antimateria ci fosse stato un equilibrio tra materia e antimateria tutto avrebbe riannichilato e avremmo una energia e basta a meno che naturalmente il Big Bang è tutta una serie di evoluzioni anche temporali e di temperatura tot secondi totodotto 340.000 anni dall'ipotizzato Big Bang oggi siamo a 13,7 milioni di anni da quel momento ma dopo alcune centinaia di migliaia di anni la temperatura è calata abbastanza per cui i fotoni non riconvertivano più con la materia nucleare in quel momento la materia è diventata trasparente noi riceviamo ancora della luce da quell'istante e quindi tante spiegazioni noi oggi non le abbiamo appunto il punto è questo naturalmente una delle ipotesi che abbiamo tentato di verificare con esperimenti agli acceleratori è che i canali attraverso cui la materia decade e si trasforma in altre cose siano diversi per materia e antimateria e che siano più sfavorevoli per l'antimateria anche se solo un bruscolino pochissimo la antimateria decade più in fretta e dopo 13 miliardi di anni naturalmente se ne vede l'effetto noi siamo qui e l'anti no questa però è solo un'ipotesi per il momento quello che noi misuriamo con gli esperimenti agli acceleratori noi verifichiamo che ci sono assimetrie ma queste assimetrie non sono sufficienti a giustificare questa invece grande macroscopica assimetria nella quale viviamo il tempo purtroppo è terminato ringraziamo tantissimo il professore applausi a l'anima a l'anima a l'anima Grazie a tutti